Musica Dicevamo sempre più forti gli appelli da parte di WWF, Greenpeace, Lega Ambiente per ridurre i nostri consumi di carne e per favorire lo stop agli allevamenti intensivi dei bovini soprattutto i bovini e dai suoi effetti conseguenziali come la deforestazione e l'inquinamento In Italia gli allevamenti intensivi a causa delle emissioni di ammoniaca degli animali e dei loro liquami sono la seconda causa di inquinamento da polveri fini, le PM2,5 sono pericolose perché essendo minuscole penetrano più profondamente nel nostro organismo e causano ogni anno decine di migliaia di morte premature in Italia Il sistema degli allevamenti intensivi che risponde poi alla nostra voglia spesso sfrenata di carne non è in alcuni di noi, fa consumare grandi quantità di risorse sempre più scarse Oltre il 60% dei cereali in commercio nella Unione Europea non è destinato a diventare per noi umani pane o pasta ma mangime per gli allevamenti intensivi così come, non tutti lo sappiamo, oltre un terzo dell'acqua usata dal settore agricolo è utilizzata per questo tipo di allevamenti e per la produzione di mangimi con i prezzi del cibo alle stelle, quindi serve una nuova efficienza alimentare bisogna, insomma, dobbiamo imparare a produrre e consumare meno carne anche per avere più grano a disposizione per le persone Ogni due secondi, pensate, nel mondo un'area di foresta grande come un campo da calcio viene rasa al suolo per fare spazio agli allevamenti di bovini o a coltivare soia destinata alla mangimistica e così un albero abbattuto in un incendio dopo l'altro specie uniche ed equilibri naturali rimaste inalterate per migliaia di anni rischiano di sparire per sempre Ecco l'Italia poi, noi siamo poi i responsabili di che cosa? Siamo i maggiori importatori di carne e soia dal Sud America e dalla foresta amazzonica Ecco, cosa occorre a fare? Occorre subito una moratoria immediata dicono appunto le associazioni ambientalistiche ma anche noi cittadini immediata sui progetti di nuova costruzione o ampliamento di allevamenti intensivi poi non destinare più fondi pubblici agli allevamenti intensivi come fanno tutti i governi adottare poi politiche che promuovano diete principalmente a base vegetale e misure efficaci per tutelare l'acqua, la risorsa idrica e poi evitare le importazioni di materie prime come la soia utilizzata come mangime e poi sui prodotti di origine animale sia ben chiaro, scritto nell'etichetta il metodo di allevamento e quindi andare verso sistemi di allevamento più rispettosi del benessere animale E naturalmente per fare queste cose occorre la politica che deve decidere, deve scegliere ma la politica non sempre è intelligente spesso è miope, adesso è sciocca e stupida non sa governare sostenibilmente ma la politica non sempre è intelligente ma la politica non sempre è intelligente Grazie a tutti.